Sfiora ai 6 milioni di euro il budget a disposizione per il maxi progetto di riqualificazione in corso all'ex Campa Pietrasanta. Il comune si è aggiudicato infatti altri 250 mila euro dalla fondazione Cassa del Risparmio di Lucca attraverso un bando rivolto ai cantieri già aperti, fondi che si aggiungono ai circa 5 milioni e mezzo di PNRR. Un passo in avanti per garantire il completamento dei lavori per la trasformazione dello storico immobile di via Marconi dove un secolo fa assorse la cooperativa di consumo in un'abba di inclusione rivolto ai giovani creativi. Siamo in linea con il cronoprogramma dettato dal PNRR, ha rilevato l'assessore lavori pubblici Matteo Marcucci durante il sopralluogo di martedì mattina insieme all'assessore sociale Tatiana Gliori. Al cantiere, aperto lo scorso febbraio, in questi mesi è stata ripristinata lavoraggine sul tetto con la posa della nuova copertura, mentre va avanti il consolidamento delle fondazioni e il recupero delle travature. Il fine lavori è previsto entro il 31 marzo 2026. Nella nuova galleria urbana alle porte del centro troveranno spazio associazioni e giovani ma anche attività congressuali, come ci ha spiegato il sindaco Alberto Giovannetti. Stiamo lavorando anche il cantiere in corso all'ex cooperativa a ridosso del centro storico per quanto riguarda anche la realizzazione del centro congressi da circa 900 posti, accompagnato anche da una sala auditorium perché anche la musica sicuramente fa parte di quelle opportunità da realizzare sempre durante i mesi, diciamo, fuori dai mesi estivi.